Sto dottore sta prestando servizio in un paesino sperduto in mezzo alle montagne, un paesino proprio di quelli all'antica e un bel giorno arriva uno con un cavallo e gli dice dottore presto venga con me che c'è la moglie del sortonino alla fattoria che sta per partorie insomma sto dottore prende il suo motorino, la valigetta e va presto a questo col cavallo arriva a questa fattoria, scende nello scantinato e trova il sortonino che sta traccheggiando la moglie che ha le doglie, le acque, quindi il dottore gli dice sortonino mancia un po' di luce qua dentro, e no quasi illuminiamo tramite le candele e no vado a prendere una luce un po' più forte e tengo una lucerna a olio e vabbè prenda la lucerna a olio, insomma il sortonino va a prendere asciugamani sta bella luce a petrolio e la avvicina alla moglie allora il dottore dice guardi guardi signor tonino sta uscendo la testina sta uscendo la testina eccolo guardi che bel bambino signor tonino ma aspetti un attimo, oh madonna c'è un'altra testina ecco sta uscendo anche un altro bambino eccolo guardi che bello signor tonino dopo un po' ma signor tonino ma c'è pure un'altra testina ma guardi oddio mio eccolo anche un terzo bambino il sortonino adottore ma non è che sta lucerna che attira ma la tu spegne